Questa squadra sta crescendo sempre di più giornata dopo giornata, quindi si può andare anche veramente lontano così? Sì, penso di sì, con questa squadra si può sfidare ognuno, ogni tanto va bene, ogni tanto no, ultimamente abbiamo preso il nostro ritmo e quindi possiamo mettere sotto pressione ognuno. Quel turno di riposo l'ultima giornata ci frega un po' per capire se riusciamo ad andare in Coppa Italia, però intanto c'è Piacenza da affrontare e poi si vedrà come siamo messi in classifica, però a questo punto è giusto crederci alla Coppa Italia. Sì, dobbiamo prendere una partita alla volta, io non ho proprio pensato alla Coppa d'Italia, prima c'era vincere contro Vivo per tenerle sotto di noi, poi forse sognare un po' per quello, solo che prima dobbiamo giocare contro Piacenza e dobbiamo vedere cosa fanno gli altri il girone dopo. Grazie a tutti.